CS 2018 ci troviamo allo stand DLG, volevo mostrarvi questo proiettore 4K con sistema operativo webOS il proiettore che vedete qui alle mie spalle da 2500 lumen è in grado di creare una proiezione che va dai 40 pollici ai 150 pollici grazie all'usilio di uno specchio potete metterlo molto vicino alla parete quindi volendo non dovete per forza collegarlo al soffitto ma potete tenerlo anche semplicemente accanto al divano perché con lo specchio potete direzionare la proiezione la particolarità che preferisco di questo prodotto oltre alla qualità 4K è per l'appunto la presenza di webOS ciò significa che il proiettore diventa una vera e propria tv in questo modo potete vedere sia Netflix che Amazon Prime Video il proiettore non è più un oggetto, passatemi il termine, morto ovvero che necessita di un ausilio per essere utilizzato quindi una chiavetta USB o il collegamento di un pc o di qualunque altra cosa ma diventa un vero e proprio hub di intrattenimento davvero molto interessante questo proiettore di LG in 4K